allora facciamo l'ultimo per il riduttore questo qua col regi spinta che è molto interessante a questo punto andiamo in ci manca di che il piano mediano del 11 dunque andrò qua e andiamo a fare 11 poi abbiamo questo qui che è la bre il 7 andiamo a mettere trovare giusto perché se no sbaglio è urment 21 andiamo a mettere qua spostiamo il distanziale 20 questo qui che è il 17 no prendere denier court qua questo qui è il 16 da qui a cui dovrebbe essere giusto con il 19 cartello a ed è giusto finalmente perché si sbaglia poco e comunque la catena è questa qua la catena di quote cinque te ci vediamo la prossima